Il ristorante La Cambusa è situato nel cuore della Divina Costiera Malfitana. Tutto è pronto per l'iscrizione nella quarta serie della pallavolo maschile da parte della Primavera Cavese, che sarà affidata alle cure del tecnico Angelo Fiorillo. Il presidente Claudio Di Criscio ufficializzerà a breve anche i nomi dei giocatori che il coach ha scelto per consentire alla società di intraprendere questa avventura, ma dopo che è saltata l'acquisizione del titolo del pianeta sport che aveva già raggiunto la C, la società partirà umilmente da qualche gradino più sotto per cercare di costruire qualcosa che possa durare nel tempo. Dunque una rosa che sia mista tra giovani ed esperti. Da indicare la struttura sportiva dove i ragazzi si alleneranno e giocheranno le partite casalinghe. La Primavera Cavese è una polisportiva ed è già concentrata anche sulla pallavolo femminile e sul calcetto femminile, ma da parte della proprietà potrebbe esserci un ridimensionamento dal punto di vista delle spese, quindi un abbattimento dei costi e una maggiore attività di scouting per trovare giovani atlete disponibili a inserirsi nella squadra. Questi giorni sono stati densi di riunioni societarie dalle quali è saltata fuori l'idea di una partnership con una scuola calcio femminile del Napoletano. Ieri sono stati fatti passi in avanti in questo senso.